sono basta perché siamo ecco bene buonasera a tutti no 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 tu stai pure qua stai e sono molto contento di essere qua stasera aspettiamo vediamo se dallo zero si muove si sposta qualcosa dallo zero appena ce n'è uno noi partiamo un po quindi c'è un po in staglio abbiamo un po problemi di connessione forse un po meglio speriamo va bene ci sono due persone bene buonasera io sono molto molto contento di essere questa sera il nostro appuntamento periodico con il fi lab e stasera parleremo di l'arte di essere felici di arthur schopenhauer e relatrice di eccezione sarà silvia cordini consiglio ci conosciamo da tanti anni non diciamo quanti è perché medici scoppiamo e ha sempre seguito l'istituto adesso entrata a tutti gli effetti tra le forze proprio ufficiali dell'istituto è una bravissima traduttrice è laureata in tre lauree facciamo un pochino di un pochino di cinema tra cui una anche più via chiaramente e a schopenhauer è uno dei suoi autori preferiti e noi abbiamo dedicato un pochino questi film ha proprio delle letture testo ci piacerebbe in qualche modo fare entrare chi ci segue da casa ma anche in presenza perché stasera siamo anche in presenza e sulla tematica filosofica e l'accesso alla tematica filosofica ce l'hai attraverso i classici sicuramente il schopenhauer è un classico è un autore molto molto particolare molto interessante non vi svelo niente perché ci sarà silvia che ne parlerà diffusamente io vi ricordo solo che un pochino questo ciclo di lettura e testo si chiuderà virtualmente con un incontro tutti gli effetti un incontro il 27 aprile quindi fra due mercoledì in cui ripeteremo il quello che noi abbiamo chiamato un ring filosofo ci confronteremo io enrico cerigone federico perelda impersonando tra virgolette tre autori santo maso io e kirk e gol federico e enrico e severino federico perelda chiaramente stiamo facendo il gioco delle parti per essere la tematica quella sulla libertà e quindi sarà un confronto sulla tematica della libertà vista attraverso gli occhi di questi tra utori che hanno posizioni molto molto distante tra di loro e anche se sono tre classici che hanno ripetuto a lungo su sulla tematica della libertà ecco io vi ricordo anche che un evento molto importante cui noi teniamo molto si svolgerà alla fine di maggio il 28 29 maggio noi abbiamo organizzato un ritiro filosofico che si svolgerà alla abbazia della marola nel reggiano sono due giornate dal sabato mattina alla domenica ci saranno degli interventi ce ne sarà uno mio su tolkien e ansiemo d'aosta ce ne sarà uno di carlo marco sulla dell enneagramma si è appena concluso proprio il corso pochi pochi giorni fa molto molto ben riuscito e un altro di giuseppe varzaghi alla domenica mattina in tutti e tre dedicati alla tematica della felicità ecco stasera si parla di felicità ne riparleremo anche tra un mese e mezzo alla marola c'è un costo di 110 euro 150 euro scusate complessivo di un pernotto una collezione due pranzi e una cena quindi molto modico strato mi dicono che si mangia molto molto bene e quindi se volete iscriversi a questo noi abbiamo chiamato l'esperienza filosofica dovete scrivere alla mail dell'istituto che trovate sul nostro sito riceverete riceverete tutti i dettagli del caso bene io direi di aver detto tutto e direi silvio ti lascio la parola il teatro è tuo quindi sia dal vivo che in remoto allora buonasera a tutti io sono molto contenta di essere qui in presenza devo dire ringrazio innanzitutto le persone che si sono scomodate da casa per venire qui ringrazio anche naturalmente il pubblico a casa e comunque insomma togliere un po di tempo alle proprie alle proprie attività serali per dedicarlo alla filosofia credo che sia sempre meritevole ecco spero di essere che questa ora insomma scorra nella maniera più gradevole possibile perché parliamo di schopenhauer ecco quindi anche il personaggio come dire è impegnativo anche se il titolo dell'opera che affronteremo questa sera che è questa l'arte di essere felici ecco connessa alla figura di schopenhauer sembra quasi un ossimoro no quindi noi claudio ha detto non vi svelo niente ma sono certa che tutti voi conosciate già insomma un po schopenhauer forse avete letto la sua opera fondamentale o qualche altro testo e comunque tutti lo considerano il pessimista per eccellenza no insieme a leopardi si dice che si assomigliano un po quindi chiediamoci perché schopenhauer ha scritto un testo che si chiama l'arte di essere felici in realtà devo fare una premessa che questo testo così come stato confezionato diciamo non è opera sua nel senso che lui aveva questo progetto di scrivere una eudemologia come aveva pensato ma non è riuscito a completarlo e quindi questi sono degli dei frammenti degli appunti anche lasciati così manoscritti e raccolti da chi ha poi appunto raccolto la sua eredità e quindi la si la genesi di questa di questa opera un po particolare come sottotitolo c'è scritto esposta in 50 massime in realtà ci sono anche un po di ripetizioni diciamo delle delle integrazioni del curatore comunque io ho fatto diciamo una curatela del curatore per restringerlo un po per sintetizzare il tutto comunque volevo innanzitutto dire che magari per un primo approccio di schopenhauer sarebbe opportuno partire dalla sua opera fondamentale proprio perché è lì che si esprime la sua vertanschauung come si dice la sua visione del mondo che adesso cercherò appena come introduzione di semplificare lui stesso come premessa a questo piccolo libro dice che scende appunto dalle vette del suo pensiero metafisico a un livello molto più concreto e empirico perché ha sempre tenuto a sottolineare il fatto che la sua filosofia sia debba essere ancorata alla realtà non solo come si dice campata per aria in concetti astratti e quindi nonostante una delle sue frasi più famose che conosciamo è appunto che la vita è come un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia e nonostante il nucleo essenziale della sua filosofia sia che appunto noi siamo volontà e rappresentazione ma il nucleo fondante è la volontà che è una volontà irrazionale ed eternamente libera che ci muove come un impulso cieco e senza scopo eterno unico ha cercato lo stesso di indicare quelli che potrebbero essere dei delle delle regole diciamo delle regole prudenziali per vivere una vita che se non pienamente felice perché questo è contro la sua concessione possa essere almeno vissuta nel modo meno doloroso possibile e volevo solo accennare a due o tre eventi della sua vita proprio biografica per inquadrarlo un attimo lui nasce a danfica nel 1788 muore a francoforte nel 1860 e a francoforte vive gli ultimi 28 anni della sua vita in quasi totale solitudine come nasce in una famiglia benestante suo padre era un ricco diciamo commerciante einrich floris aveva sposato una donna di una ventina d'anni più giovane e a qui quando schopenhauer ebbe 15 anni manifestava già delle inclinazioni diverse da quelle del padre però per attirarlo nel mondo degli del commercio gli propose una sorta di ricatto diciamo gli disse o gli propose di fare un viaggio in europa un lungo viaggio di un anno e mezzo circa visitando le più grandi capitali eccetera oppure di rimanere a studiare a casa praticamente allora sollecitato da questa proposta lui fece questo viaggio che disse anche molti anni più tardi che fu una delle esperienze più importanti della sua vita nel senso che proprio per la prima volta da adolescente che ancora diciamo ignaro della filosofia delle varie dei pari pensieri sistemi di pensiero ebbe una visione diretta di quello che era la realtà quindi sicuramente visitò anche musei pinacoteche le bellezze che tanto contribuirono anche alla sua concessione dell'arte come liberazione temporanea dal dolore ma ebbe anche la possibilità di vedere la miseria la sofferenza assistente a delle esecuzioni in alcune piazze di londra di condannati a morte visitò degli ospedali psichiatrici vide l'arsenale di tolone delle navi cariche di condannati a vita e insomma altre altre situazioni che racconta nei diari di viaggio che gli fecero proprio dice l'impressione un po che fecero a buddha quando per la prima volta uscì dal palazzo e si accorse della malattia della vecchiaia e della morte ecco a proposito di buddha devo dire che un altro episodio incontro molto importante è stato proprio quello con la saggetto orientale diciamo allora innanzitutto quando tornò da questo viaggio poco dopo il padre morì e quindi questo crea una grossa crisi in il pen hour che peraltro non andava molto d'accordo con la madre tant'è vero che dopo qualche anno lei lo cacciò decisamente di casa dicendo che non l'avrebbe mai più visto e così fu e lei l'accusa lui l'accusava di dissipare patrimonio e di comportarsi in maniera frivola e comunque ecco la morte del padre fu un dolore ma anche una liberazione perché finalmente lui dopo qualche mese riuscì a iscriversi a filosofia e a dedicare finalmente la vita a quello che voleva cioè cercare di scoprire le ragioni del male e cercare di dare un'indicazione su come poter trovare delle vie di salvezza mentre scriveva la sua opera fondamentale che è questa il mondo come volontà e rappresentazione decisamente un tomo molto più importante diciamo è sostanzioso del dell'arte di essere felici incontro fece un incontro fondamentale con un orientalista che si chiamava maier che gli presentò la leupanish ad una o meglio una traduzione che era stata appena pubblicata a strasburgo nel 1801 quindi pochi anni prima del di questo testo sacro dei veda quindi lui quando lesse questa questa filosofia induista ebbe proprio un illuminazione insomma e da questa da questa filosofia trasse per esempio un concetto fondamentale che quello del velo di maya il velo di maya che in sanscrito praticamente vuol dire il velo dell'illusione che sarebbe come il l'illusione appunto che ci impedisce di vedere qual è la vera realtà secondo le leupanish ad cioè che non esiste adesso chiaramente semplifico però che esiste un'unica un'unica essenza che permea tutti gli esseri e quindi non c'è più una differenza fra fra i singoli individui un'espressione tipica di questo una pagina che troviamo nelle leupanish ad che spiega molto bene questo concetto attraverso l'espressione tat van asi che vorrebbe dire tu sei quello racconta appunto di un maestro che mostra ai suoi discepoli una serie di esseri animati in animati che scorrono davanti a lui e a ognuno che passa quindi animale pianta essere umano ma anche pietra eccetera dice tu sai quello quindi c'è un'unica un unico afflato unico principio che unisce tutti 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 gli uomini praticamente ed è questo velo di maya che ci impedisce invece di vederlo infatti gli induisti dovrebbero riuscire appunto a strappare stracciare sollevare questo velo di maya e capire che il proprio io individuale a prima si fonde con l'io brama cosmico chiusa parentesi dell'induismo però è molto importante perché anche nella concezione di schopenhauer esiste come nucleo centrale appunto questa volontà che definita proprio come impulso cieco irrazionale questo aspetto è molto importante anche perché l'irrazionale entra di prepotenza nella filosofia dopo che da sempre possiamo dire da nasagora quasi per quasi tutta la storia della filosofia si era sempre cercato un principio razionale invece schopenhauer sosterrà che ciò che ha il primato è questa volontà che ha questo carattere primato anche sulla coscienza e sulla conoscenza è la volontà che ha un carattere totalmente irrazionale ed è la stessa che appunto permea tutti gli esseri ci sono ci sono delle pagine bellissime che però vabbè leggiamo eventualmente dopo perché volevo tornare poi su questo librino questo solo per come piccola introduzione ancora volevo dire che queste regole di saggezza diciamo che lui me lascia sparsi come frammenti ma aveva in mente di raccogliere in questo volume dell'eudemologia servivano anche un po a se stesso per affrontare alcuni alcuni dolori della vita oltre a quelli già elencati possiamo dire che non era stato fortunato con la pubblicazione del suo della sua opera in cui credeva tantissimo nel 1818 viene pubblicato al mondo come volontà e rappresentazione però pressoché un venduto viene molta molta molte copie vennero gettate al macero e a sua sorpresa e delusione non si aspettava assolutamente tanto è vero che se ne andò a fare un viaggio in italia da cui poi rientrò gli dissero che la banca dove avevano lasciato insomma la maggior parte dei loro beni la famiglia schopenhauer era fallita quindi ebbe anche dei problemi a recuperare parte delle sue ricchezze lasciate dal padre e decise di insegnare quindi chiese alla università di berlino la libera docenza ebbe la bellissima idea lo fece apposta di chiedere di avere le ore di lezione in contemporanea quelle di hegel che come sappiamo aveva un sistema di pensiero totalmente opposto al suo basta ricordare la famosa frase di hegel che tutto è razionale quindi era un approccio decisamente ottimista rispetto al pessimismo schopenhauerriano e anche qui ebbe un esito in fausto perché in un momento in cui gli studenti pagavano le elezioni insomma praticamente dovete rinunciare dopo poco per mancata di studenti quindi vediamo adesso come come sono strutturate queste questa andiamo nel merito diciamo di questo librino e io comincierei raccoglierei appunto alcune delle massime che hanno uno stesso diciamo ferrugia inizierei proprio da quella che lui dice che secondo lui deve essere messa all'inizio anche se il curatore l'ha messa il numero 49 però lui dice dovrebbe essere la prima dell'eudemologia ecco questo per sgombrare un po il campo alla parola essere felici alla parola felicità che associata a schopenhauer può creare diciamo una certa perplessità lui dice la definizione esistenza felice potrebbe forse essere questa quella di un'esistenza che con una riflessione fredda dovrebbe preferirsi alla non esistenza quindi noi dovremmo essere attaccati alla vita per quello che rappresenta in sé e non solo per la paura della morte e in un certo senso se è così dovremmo anche volerla vederla durare all'infinito ecco lui dice subito come è noto alla domanda se la vita umana corrisponda a questo concetto di esistenza quindi felice la mia filosofia da una risposta negativa e quindi qua è molto coerente col suo pensiero sono aggiunge subito cioè nonostante l'eudemonologia cioè queste dottrini insieme di dottrine della felicità presuppone una risposta affermativa quindi praticamente cosa vuol dire che la vita è dolore e su questo non non ci sono attenuanti però dobbiamo cercare di viverla nel modo che lui dice proprio nel modo più passato passabilmente usa proprio questo aggettivo allora perché la vita è dolore allora adesso torno alla massima numero uno che inizierebbe così siamo tutti nati in arcadia tutti veniamo al mondo pieni di pretese di felicità e piaceri fino a quando il destino ci afferra bruscamente e ci mostra che nulla è nostro e tutto è suo ecco quindi in arcadia chiaramente questo posto idealizzato questa regione dell'antica grecia dove uomini e natura vivevano in perfetta armonia quindi quando noi nasciamo all'inizio della vita c'è questa speranza no la vita ci sembra che ci venga data come un dono quindi soprattutto i giovani si fanno tutte queste illusioni di vita beata futura ma ben presto si accorgeranno che invece il destino li afferra bruscamente e poi ci sarà anche l'esperienza a mostrare che la felicità e i piaceri sono per lo più solo delle chimere delle illusioni mentre la sofferenza e il dolore sono reali ecco quindi questo è un po un altro concetto fondamentale di super schopenhauer quello della felicità la concessione della felicità in senso negativo cioè non esiste la felicità reale palpabile che si mostra che si può acchiappare godere lungamente ma la felicità la felicità è concepita solo come cessazione o riduzione temporanea di dolore e qui già nella massima numero uno cita una una frase di aristotele che peraltro viene citata più volte dall'epica nicomachea l'uomo saggio non persegue ciò che è piacevole ma la senza di dolore quindi il primo diciamo suggerimento potrebbe essere proprio questo non andiamo alla ricerca di troppe felicità ma cerchiamo come dire di conservare quello che abbiamo e evitare il dolore e questa massima è legata anche al 22 che dice che sempre principio dell'eudemologia e poi sottolinea questa stessa parola è un eufemismo perché vivere felici vuol dire vivere il meno dolorosamente possibile quindi ancora cita ancora questa massima di aristotele e anche volterre che viene citato spesso anche nel mondo come volontà rappresentazione che dice appunto la felicità né che è solo un sogno la dolore è reale quindi anche volterre sostiene questo che la felicità è solo un sogno il dolore è reale secondo Schopenhauer molte di queste illusioni nascono da un ottimismo insano lui dice più volte che l'ottimismo è una visione del mondo indegna dell'uomo il giovane crede che il mondo sia fatto per essere goduto e viene rafforzato in quest'idea da romanzi poesie e quindi va a caccia di una felicità che si rivela una selvaggine inesistente e il giovane si troverà poi più avanti negli anni di fronte a un'infelicità questa sì reale e positiva quindi ancora ribadisce come il saggio debba evitare i mali almeno quelli che sono nella sua nel suo raggio d'azione diciamo perché poi su molte cose noi non possiamo fare niente naturalmente anzi in un'altra massima dice che quasi rappresentando graficamente due forze dice che le nostre azioni sono determinate dal caso e dalle nostre decisioni ma e quindi praticamente la risultante della forza sarebbe la diagonale però su quella del caso non possiamo fare assolutamente niente quindi dove possiamo agire sono sulle nostre decisioni e poi sempre fino a un certo punto perché appunto il fatto che noi abbiamo una volontà che ci muove e che rappresenta il nostro carattere e secondo schopenhauer il carattere è praticamente immutabile noi nasciamo con una certa inclinazione predisposizione morale che ci viene data soprattutto dal padre mentre l'intelletto secondo schopenhauer ci viene dato dalla madre e nella vita per quante condizioni diverse potremmo incontrare per quante motivazioni possiamo possono sollecitarci la nostra il nostro carattere viene sempre fuori come dire è quasi impossibile che cambi e quindi il margine di azione che abbiamo è veramente ridotto però ecco cerchiamo di sfuggire ai mali che sono il nostro potere e qui cita goethe nelle affinità elettive che fa dire a un suo protagonista mitler chi vuole qualcosa di meglio di quello che ha è assolutamente cieco e quindi il suggerimento è appunto di nuovo accontentarsi di quello che si ha apprezzarlo e non chiedere di più e a me è venuto in mente visto che spesso poi schopenhauer fa dei riferimenti alla letteratura in particolare shakespeare mi è venuto in mente Macbeth che è il personaggio emblematico di come l'ambizione sfrenata possa portare a un disastro totale insomma era già un valoroso soldato premiato dal suo re Duncan però dopo l'incontro con le streghe questa ambizione che monta anche su spinta della moglie di Macbeth e spinge a uccidere il re e poi naturalmente si inserisce una spirale di violenza che non riesce più a fermarsi perché poi quando si innesta il meccanismo della malvagità poi è difficile fermarsi quindi anche questa l'abbiamo diciamo questa massima si possono collegare dunque ecco adesso vediamo un'altra importante perché ripeto non sono messe in ordine di importanza non è che la 1 è più importante della 2 è stata diciamo una sistemazione fatta dai vari curatori a loro piacimento diciamo io seguo di più quello che dice schopenhauer e quello che riflette più la sua filosofia ecco molto importante secondo me è questa massima 38 sarebbe che dice che è molto più ciò che uno è cioè la sua personalità intesa nel senso più ampio nella personalità comprende anche la salute che da un'altra parte dice che già da sola vale i nove decimi della felicità e questo su questo credo che siamo tutti d'accordo soprattutto negli ultimi due anni lo vediamo molto bene ecco quindi la personalità che comprende nel suo senso più ampio la salute la forza l'aspetto fisico il carattere morale ripeto con cui uno nasce e se lo porta dietro praticamente tutta la vita e l'ingegno sono molto più importanti di ciò che uno ha come averi possedimenti ricchezze e ciò che uno rappresenta cioè rappresentare vuol dire in questo senso reputazione rango fama onori eccetera cioè l'opinione che gli altri hanno di lui e quindi ciò che uno è questo sembra quasi banale però l'esperienza ci dice dice proprio schopenhauer che moltissime persone sono più interessate per esempio agli altri due punti che non dipendono direttamente da se stesso mentre noi dovremmo curare molto di più il primo punto cioè quello che accade nel nostro intimo il nostro sentire, il nostro pensare cercare di avere un temperamento sereno per affrontare meglio ogni difficoltà ogni sventura anche e si richiama spesso anche agli stoici soprattutto dello stoicismo romano Seneca e Epiteto sono richiamati molto spesso qui c'è una massima di Epiteto che dice ciò che turba gli uomini non sono tanto le cose che accadono ma le opinioni che essi hanno sulle cose quindi è sempre non è l'evento in sé ma come noi il peso che noi diamo all'evento la nostra visione, la nostra percezione di questo evento quindi dobbiamo cercare di costruire per noi non solo una salute il più possibile perfetta e tra l'altro, apro e chiuso la parentesi, lui era molto attento a questo peraltro campò 72 anni che non è neanche poco all'epoca faceva una passeggiata lunga tutti i giorni e anche si dice un bagno nel meno tutti i giorni però morì anche di polmonite quindi forse qualche bagno in meno forse nel meno nel meno avrebbe potuto farlo quindi coltivare il proprio temperamento, una salute il più possibile perfetta e un ingegno lucido, vivace, dotato di discernimento perché anche qui ci sarebbe un discorso importante da fare sappiamo che la volontà ha il primato sull'intelletto per Schopenhauer e anche qui ci sono pagine dove dice proprio anche le ragioni per cui secondo lui l'intelletto è servo della volontà però l'intelletto sarà anche quello che solo in alcune persone elette e privilegiate che sono poi quasi solo dei mistici santi, gli asceti l'intelletto potrà operare una sorta di conversione la chiama trasformazione radicale e riuscirà a elevarsi al punto tale da riuscire a squarciare finalmente questo velo di maia e a far capire anche al singolo che bisogna assolutamente abbattere l'egoismo intanto perché non ha senso l'egoismo che è uno dei mali capitali dell'uomo e in questo si rifà a Hobbes cioè lo stesso pensiero, a momini lupus però lui arriva a dire che addirittura il tormentato e il tormentatore dovrebbero riuscire entrambi a sollevare questo velo e a capire che è un'unica essenza quella che muove entrambi e quindi una volta che si è capito che qui si rifà quello che abbiamo detto prima la concezione hinduistica che siamo cioè se io faccio del male a qualcuno in un certo senso lo faccio anche a me stesso e comunque ecco l'ingegno, l'intelletto riuscirà in alcuni casi particolari ad avere una forza tale da riuscire a squarciare il velo di maia e a costringere in qualche modo la volontà ad autosupprimersi comunque ecco qui senza arrivare a questa all'ascesi già è importante insomma avere un ingegno vispo anche solo per riuscire a evitare l'altro polo diciamo oltre al dolore e la noia quindi uno che ha abbastanza ingegno riesce sempre a cercare delle attività a tenersi impegnato diciamo in modo da fuggire all'altro polo di sofferenza che è dato dalla noia quindi l'ingegno può anche, l'intelletto, l'ingegno può anche aiutarci a tenere appena cercare di tenere un po' sotto controllo la volontà anche se sappiamo che essendo proprio eternamente libera si fa molta fatica però insomma come dire ci si può provare a questo punto mi è venuto in mente un collegamento con Freud peraltro Thomas Mann scrisse un saggio dove equiparò in qualche modo la volontà di Schopenhauer all'es di Freud perché comunque è un nucleo irrazionale che ci governa come per Freud noi siamo dominati dall'es abbiamo tutto in mente questa metafora dell'iceberg che è la parte sottostante la più importante è questo groviglio di impulsi irrazionale che governa le nostre azioni quindi per Freud non siamo neanche padroni in casa nostra come dice lui che crediamo di essere liberi e determinati nelle nostre azioni in realtà c'è questo es che ci guida ma è simile alla concezione di Schopenhauer anche per Schopenhauer Schopenhauer dice che noi crediamo di essere liberi ma in realtà non è così o meglio noi siamo liberi nel contingente perché seguiamo dei motivi per esempio ma a breve durata ecco noi non so ecco io mi sono preparata per questa esposizione fine lo scopo era avevo un fine ognuno di noi ha dei piccoli fini nella giornata ma in realtà la volontà il perché io voglio qualcosa perché ciascuno di noi brama qualcosa il volere noi non sappiamo perché l'individuo vuole in generale sappiamo che cosa vuole in un caso particolare ma non perché vuole in generale e comunque tornando all'ingegno che è importante averlo mi è venuto appunto il collegamento con Freud che nel disagio della civiltà verso la fine dice che l'intelletto è senza forza in paragone dell'es dell'inconscio però ha la forza come dire della goccia che batte sulla pietra pervicacemente si fa insiste su questa pietra finché non si fa udire quindi insomma per entrambi l'intelletto è subordinato alla volontà per Schopenhauer all'es per Freud però non si dà pace finché non si fa sentire così dice Freud e per Schopenhauer è la stessa cosa chiaramente però questa questa via di salvezza questa redenzione per Schopenhauer avviene proprio solo in poche e rare persone infatti lui non riusciva neanche a spiegarla più di tanto se non attraverso proprio le biografie di santi, mistici maester Eckhart madame de Villon e altri san francesco d'assisi e altri mistici indiani perché è qualche cosa che rimane permeata di un certo mistero comunque la cosa in sé la cosa in sé kantiana che rimane inconoscibile e che Schopenhauer identifica con la verità con la volontà scusate resta sempre un po' qualcosa di misterioso per forza non potremo mai entrare completamente nel nucleo in quello che appunto Kant definisce Numeno e Schopenhauer la volontà però ecco torniamo a questi piccoli consigli pratici quindi cercare di coltivare un ingegno vispo e lucido perché appunto è la componente soggettiva che determina i nove decimi del piacere quindi pensiamo a noi stessi guardiamoci dentro e anche qui anche se vogliamo anche Socrate diceva così Sant'Agostino eccetera però partendo da basi totalmente diverse quindi l'intellettualismo etico per Schopenhauer non esiste proprio perché Socrate diceva fondamentalmente che se uno conosce bene non può non farlo per Schopenhauer per esempio non sarebbe così perché appunto velle non dici tu questa è un'espressione di Seneca che lui dice spesso non si può insegnare al volere perché al volere è sempre eternamente libero ecco un uomo ricco di spirito in perfetta solitudine si intrattiene in modo eccellente con i suoi pensieri mentre un uomo ottuso si annoia nonostante un continuo avvicendarsi di spettacoli feste ed escursioni io sono molto convinta di questo insomma tante persone che cercano di distordirsi proprio di di divertimenti di varie insomma modi di ammazzare il tempo come si dice in realtà credo che abbiano probabilmente un'intetudine dentro un'insoddisfazione è un po' quello che diceva Pascal a proposito del divertismo quindi non non diceva anche che una delle più grandi difficoltà dell'uomo è rimanere chiusi da solo in una stanza quindi perché è un po' quando noi cerchiamo di rimanere da soli con noi stessi a volte ci fa paura questo eppure sia Pascal che Schopenhauer sempre partendo da prospettive totalmente diverse sostengono l'importanza di di stare insomma con se stessi perché c'è molta più ricchezza insomma nella nella nostra nella nostra interiorità nel nostro spirito se ben coltivato ecco la personalità e qua riprende una frase di di Goethe la personalità è la cosa più importante che che sia è la cosa più preziosa dice Goethe peraltro lui si conobbero i due perché la madre dopo la morte del padre prese l'abitudine di fare dei ritrovi pomeridiani dei te due volte alla settimana dove chiamava i più belli spiriti dell'epoca tra cui Goethe che notò subito il cervello molto insomma acuto del ragazzo Arthur e i due scrissero anche un libro sulla vista e i colori poi Schopenhauer mandò una copia del mondo come volontà rappresentazione a Goethe però lui non è che disse cioè si aspettava anche lì dei complimenti invece era più l'ammirazione che Schopenhauer aveva per Goethe che forse non il contrario ecco molte persone invece sono più interessate a ciò che gli altri pensano ecco lo diceva Schopenhauer questo è vero ciò che è per gli altri viene sopravvalutato rispetto a ciò che noi dobbiamo pensare rispetto a quello che vale nella nostra coscienza però è vanità è la vanità che ci fa spingere a comportarci anche in modo tale che da avere la stima degli altri altre adesso vado un po' random cerco di collegare meno allora massima numero due evitare l'invidia vabbè altro consiglio spicciolo citando una frase di Seneca ancora giammai sarai felice finché ti tormenterai perché un altro è più felice la massima numero tre riguarda il carattere allora come abbiamo detto il carattere cosiddetto empirico è immutabile perché è espressione della volontà e durante la vita si si riesce però a capire quali sono le tue attitudini i tuoi punti di forza di debolezza eccetera quindi si arriva a una conoscenza maggiore di sé naturalmente e quindi ciò si arriva a quello che si definisce carattere acquisito e quindi ciò può evitarci dei dolori delle sofferenze perché se io capisco qual è il mio vero temperamento le mie debolezze le mie fragilità così come i miei punti di forza eccetera io posso evitare dice di afferrare come bambini alla fiera tutto quanto passa ci attrae e buttarci in qualunque avventura correre a zigzag vagando di qua e di là ma posso diciamo impostare la mia vita in modo più conforme alla mia coscienza e quindi quando abbiamo appreso il nostro carattere acquisito abbiamo la conoscenza più perfetta che possiamo avere della nostra potenzialità e quindi sapremo meglio che cosa vogliamo e possiamo e ci risparmieremo dei dolori anche delle umiliazioni forse perché come dice Schopenhauer possiamo anche sfuggire al più amaro di tutti i dolori che è la scontentezza di noi stessi per esempio se ci cimentassimo diciamo in una attività impegnativa per la quale non siamo assolutamente portati e che porterebbe quasi sicuramente al fallimento sapendo conoscendo meglio noi stessi possiamo insomma cercare di adattare la nostra di creare le attività più adatte alla nostra personalità la massima numero 4 dice che la ricchezza e la gloria assomigliano all'acqua del mare più se ne beve più si ha sete quindi ancora spesso ci abituiamo all'ampliamento dei nostri desideri e diventiamo indifferenti al possesso corrispondente cioè praticamente diamo per scontato quello che abbiamo e cercando sempre qualcosa di nuovo aumentando le pretese e invece dovremmo delle volte chiederci pensare ma se io non avessi più questo se io non avessi più la casa adesso in questi giorni di guerra purtroppo magari può può venire in mente questo tutto sommato essere contenti di quello che abbiamo se abbiamo la salute prima di tutto una casa una persona con cui insomma avere una relazione d'affetto d'amore degli amici dei figli ecco ricordarci ogni tanto la ricca è già una ricchezza importante quindi non diventare indifferenti al possesso come invece può capitare appunto per ricchezza e gloria che invece non ci soddisfano non ne abbiamo mai abbastanza no? Altra cosa dove spesso sbagliamo è incolpare una causa esterna del dono dolore cioè spesso diciamo ma non so diamo la colpa a una persona un evento un fatto un attore di lavoro che sia un vicino di casa o un evento qualunque che ci rende infelici ma noi dobbiamo capire e questo è proprio Schopenhauer più puro che il dolore ha fondamento nel nostro essere e quindi non può essere rimosso se non avessimo quella determinata causa esterna di sofferenza il dolore sarebbe distribuito come in altri cento punti che apparirebbero sotto forma di cento piccoli fastidi e quindi non ne usciamo insomma quando una grande preoccupazione ci viene alla fine elevata subito il suo posto ne sopraggiunge un'altra la cui materia esisteva già tutta prima solo che non aveva lo spazio per manifestarsi alla coscienza ripete il dolore è essenziale alla vita perché appunto siamo volontà il mondo come volontà e rappresentazione cosa vuol dire che anche noi stessi siamo sia rappresentazione il nostro corpo noi stessi noi come individui come fenomeno direbbe Kant siamo oggetto tra oggetti e quindi rappresentazione individuabile secondo le coordinate spazio tempo casualità causalità e quelle che lui definisce principium individuazionis che individuano tutte le cose nello spazio e nel tempo però noi esseri umani abbiamo una via privilegiata per capire che siamo anche volontà e noi riusciamo attraverso il corpo perché il corpo è dice Schopenhauer volontà oggettivata ogni azione della volontà si riflette nel corpo e quindi finché siamo vivi è inerente alla nostra natura di uomo anche la sofferenza e questo si può come il dolore sia qualcosa di essenziale alla natura umana ma non solo ripetiamo tutti gli aspetti della natura anche con l'animale soprattutto volevo cercare di leggere una frase molto nel regno animale soprattutto si vede come appunto la volontà sia ecco trovato come la volontà laceri se stessa e entri in collisione con la volontà degli altri animali cioè il mondo animale è un mondo ancora forse peggio dell'uomo dove ogni essere divora è nutrimento per l'altro essere e c'è un brano che a me ha sempre colpito molto di questo episodio che è stato riportato da un esploratore prima come introduzione dice è tuttavia nella vita degli animali che si colgono facilmente la vanità e nulla degli sforzi la varietà delle organizzazioni la perfezione dei mezzi con cui ciascuna forma è adattata al proprio ambiente alla propria preda qui contrastano chiaramente con l'assenza di qualunque finalità cioè anche ogni animale persegue uno scopo ma senza conoscenza non sa perché per esempio il ragno non sa perché attesse la tela non ha ancora rappresentazione della preda che andrà a cadere nella tela come l'uccello costruisce il nido ancora non ha la rappresentazione delle uova che andranno a devorsi lì ci sono altre immagini tipo la larva del formicaleone mi ricordo che costruisce un spazio più ampio di fianco a lei perché non lo sa senza conoscenza però l'essere che nascerà avrà le corna diciamo e dovrà avere uno spazio maggiore però ecco a livello animale spesso la volontà agisce senza conoscenza e racconta di questo episodio dunque Jungun questo esploratore racconta di aver visto a Java un terreno ricoperto di ossa che si estendeva perdita d'occhio che da prima gli era perso un campo di battaglia in realtà si trattava di scheletri di grosse tartarughe lunghe 5 piedi larghe 3 e altre alte attrettanto le quali uscendo dal mare fanno quel percorso per deporre le uova e vengono assalite da cani selvatici che uniscono le proprie forze per rovesciarle sul dorso strappando la parte inferiore del carpace le piccole scaglie del ventre divorandole ancora vive e poi spesso avviene che una tigre si lanci su questi cani che hanno a loro volta divorato queste tartarughe questa devastazione si ripete migliaia e migliaia di volte anno dopo anno è con tale fine che sono nate quelle tartarughe ma per quale colpa devono sopportare un simile supplizio perché queste scene atroci a ciò non va che una sola risposta così si oggettiva il voler vivere quindi questo è proprio solo un esempio delle innumerevoli pagine in cui Schopenhauer mostra come il dolore si è inerente alla vita perché è proprio una lacerazione della volontà all'interno di se stessa che provoca se stessa quindi il dolore è essenziale alla vita è inutile che noi diamo la colpa al destino al fatto eccetera se non era quel dolore lì a colpirci sarebbe stato un altro siamo corpo volontà oggettivata e quindi per questo appunto il dolore è essenziale alla vita quindi dice anche per esempio che ogni manifestazione eccessiva in un senso o nell'altro o l'eccessivo giubilo o l'eccessivo dolore sono un errore che si potrebbero evitare usando giudizio perché ogni giubilo smodato riposa sempre sull'illusione di aver trovato nella vita qualcosa che non si può trovare cioè una soddisfazione durevole e qui cita l'etica stoica ancora che mirava invece a liberare l'animo da ogni illusione dando un incrollabile equilibrio noi ricordiamo gli stoici che avevano appunto l'accettazione della necessità una sorta di fatalismo li guidava insomma la ragione doveva far capire loro che la realtà era quella e dovevano accettarla è famoso l'aneddoto di Zenone che quando gli dissero che suo figlio era morto disse me lo aspettavo prima o poi questo è il destino di tutti gli umani morire e insomma conservare l'imperturbabilità quindi evitare qualsiasi eccesso di giubilo o dolore noi passiamo di desiderio in desiderio e sebbene ogni soddisfazione conseguita non ci soddisfi ci affrettiamo a correre sempre dietro desideri nuovi e questo a cui si ricollega col buddismo naturalmente una delle la prima delle quattro nobili verità è appunto che la vita è dolore e che quindi cosa dovremmo cercare di fare non desiderare più o almeno cercare di desiderare meno e questa è un'altra massima che dice visto che noi finché viviamo siamo corpo e quindi siamo volontà e quindi siamo desiderio continuo almeno non potendo fare a meno di desiderare cerchiamo una sorta di etica della moderazione cerchiamo di limitare i nostri desideri a proposito dell'etica della moderazione cita anche Epicuro Epicuro non mi ricordo in quale massima è stata a finire comunque Epicuro spesso frainteso che in realtà vabbè suddivideva i beni in tre tipi quelli naturali e necessari quindi fondamentalmente quelli che sarebbero Andrea quelli della base della piramide di Maslow quindi i beni fisiologici mangiare bere dormire vestirsi e sono gli unici da poter soddisfare questi poi ci sono quelli naturali e non necessari di cui si può anche fare a meno tipo cibi raffinati lussi case grandi eccetera servitù e quelli non naturali e non necessari tra cui per esempio la gloria e le ricchezze sarebbe opportuno concentrarsi solo sui primi quindi da queste poche cose già si capisce che la sua ricetta diciamo della felicità possibile è quella di mantenersi entro certi limiti visto che non possiamo non desiderare finché siamo corpo almeno trattenerci ecco altre cose questa mi piace limitare la propria cerchia di persone è noto che Schopenhauer era un misantrofo almeno anche lì forse c'è da correggere qualcosa però è conosciuto come un grande misantrofo però in realtà io leggendo questi colloqui che sono carinissimi di raccolti curati da Anacleto Verrecchia si capisce che sì è vero che lui andava sempre a pranzo e cena all'Englisher Hoof sotto casa sua e chiedeva un ultimo tavolo possibilmente pagando anche l'oste perché gli tenesse liberi quelli di fianco perché non voleva disturbo però qualche volta si intratteneva con alcune persone meritevoli di conversazione quindi però ecco certamente limitare la cerchia delle conoscenze è una buona cosa a questo punto non può non venirmi in mente anche il famoso aneddoto che racconta nei Parerga e Paralimomena dei porcospini come sappiamo questa giusta distanza che dovrebbero tenersi le persone similmente a dei porcospini che in una fredda giornata d'inverno cercano di avvicinarsi per resistere al freddo ma in realtà ovviamente avvicinandosi si pungono allora si allontanano però troppo lontani hanno troppo freddo e quindi la via migliore è insomma avere pochi amici a una certa distanza e del resto questo coincide anche con una delle massime e c'è un altro richiamo da Aristotele che per quello che riguarda l'amicizia dice ecco le massime ecco di ciò che si ha fanno parte principalmente gli amici tale possesso la particolarità che il possessore deve essere però nella stessa miglura anche possesso dell'altro ma in particolare leggete sull'amicizia Aristotele sempre l'antica Nicomachea e quindi anche qui in breve insomma qua non lo cita però insomma sappiamo che Aristotele diceva che esistono tre possibili tipi di amicizia quella fondata sull'utile sul piacevole e sul bene mentre le prime due possono essere più appunto utilitaristiche in particolare sull'utile è tipica delle persone più anziane sul piacevole dei più giovani ma la migliore è quella che si la più perfetta forma di amicizia è quella che si fonda sul bene l'amicizia perfetta e disinteressata e anche diceva stesso Aristotele ma anche Platone Schopenhauer ma è pochi ma buoni il concetto del poco ma buono sicuramente vale sempre limitare la propria cerchia e vabbè qua mi viene in mente Sartre con l'onferse les off anche lì parte da un'altra un'altra posizione però insomma anche per Sartre l'inferno sono gli altri nel senso che noi siamo comunque in qualche modo etichettati da quello che pensano gli altri di noi meno persone conosciamo forse meglio poi io vado avanti se non mi fermate non sto guardando l'orologio vedo che sono le 9 e 10 se va bene però insomma sono le 10 e 10 allora non hai aggiornato con l'orario nuovo comunque io vado avanti poi mi fermate fra un po' no perché mi sto scaldando adesso come dire dopo l'emozione iniziale no ma adesso ma insomma avrei volendo tantissime cose da dire però guardo se fra le ultime massime rimaste c'è qualcosa ancora di interessante sempre per gli amici sempre meno questi consigli molto pratici adesso scendiamo proprio proprio dalle vette dell'alta metafisica alla quasi banalità quasi quotidiana parlare il meno possibile con gli altri e moltissimo con se stessi ricordatevi che nessuno terrà per sé quello che ha udito questo ce lo dicevano anche le nostre nonne ognuno ha un amico a confidare qualcosa quindi dopo un po' il segreto diventerà di dominio pubblico peraltro anche Seneca nelle lettere all'uciglio diceva qualcosa del genere e ancora cercare di gran parte della saggezza si basa sulla giusta proporzione in cui dedichiamo con cui dedichiamo la nostra attenzione in parte al presente e in parte al futuro perché molti pensano troppo sono troppo concentrati sul presente diciamo li chiama proprio gli sconsiderati e altri gli apprensivi troppo al futuro quindi dovremmo cercare una via di metto sapere sì che ci sono dei mali che sono alcuni sono solo probabili altri certi per esempio la morte ma dobbiamo agire pensando che quelli probabili non arrivino adesso e quelli probabili altri non arrivino mai e quelli certi non arrivino certamente adesso insomma a breve mantenere la calma in tutte le avversità l'abbiamo già detto ecco anche questo è interessante tenere a freno la fantasia tenere a freno la fantasia insiste due volte in tutte le cose che riguardano il nostro benessere il nostro malessere perché fantasticando su possibili casi fortuiti e le loro conseguenze costruiamo dei castelli in aria che poi sono destinati al desengagno usa anche la parola spagnola ricordiamo che Schopenhauer era praticamente poliglotta suo padre l'aveva inviato un paio d'anni al Havre dai 9 agli 11 anni per imparare il francese presso un amico commerciante il francese era la lingua degli affari allora parlava il francese benissimo anche l'inglese naturalmente e anche lo spagnolo tant'è vero questa cosa che mi è venuta in mente mi permette di dire che lui rimase anche molto influenzato da Balthasar Gracián che era appunto uno spagnolo che aveva un gesuita che aveva scritto l'oraculo si chiamava erano guarda caso 50 massime di etica e si trovavano molto come sensibilità perché anche questo Balthasar Gracián aveva un pessimismo diciamo così molto pronunciato e lui voleva tradurre assolutamente questo lo fece anche però quando lo presentò un editore non accettò la sua tradizione quindi diciamo che non è stato molto fortunato con gli editori Schopenhauer comunque ecco tenere a freno la fantasia perché possiamo costruirci dei castelli in aria però dopo subentra il disinganno e cose anche peggiori può avere immaginare disgrazie insomma quindi tenere a freno la fantasia sia in senso positivo che in senso negativo le cose che riguardano il nostro benessere dobbiamo affrontarle con la capacità di giudizio che opera con concetti quindi la ragione che opera attraverso concetti astratti in una riflessione fredda e asciutta e quindi ancora una volta con due punti esclamativi tenere a freno la fantasia questa peraltro ecco si collega con un'altra che dice la 33 sarebbe infatti il sopenauer dice va immediatamente dopo quella non si capisce perché l'abbiamo messa più tardi vabbè comunque bisogna riuscire a dominare l'impressione prodotta da ciò che è visibile e presente la quale è straordinariamente forte se confrontata con ciò che ha semplicemente pensato cioè se noi abbiamo sotto gli occhi qualche cosa ovviamente la sua impressione è più forte quella se è una cosa gradevole a cui riflettendo avevo rinunciato quando l'ho sotto gli occhi ci stimola questo è insomma facilmente immaginabile anche con un cibo per esempio un gelato di cioccolato se dicono rinuncia oggi poi me lo offrono e questo dalle piccole cose così alle cose più importanti perché ciò che è presente visibile agisce sempre con tutta la sua forza mentre i pensieri e le ragioni richiedono tempo e calma per venire pensati a fondo c'è qualcosa di consolante anche per la vecchiaia quindi qua c'è qualcuno ne ha compresa che ha passato gli anta e allora è consolante sapere che in tutta questa questo pessimismo c'è anche qualche cosa di bello nella vecchiaia in realtà perché perché intanto abbiamo passato tutte le illusioni ci siamo accorti che appunto non sempre così la vita da quello che si si spera che noi poi illusoriamente avevamo creduto che potesse renderci felice e si placano alcune pulsioni ecco vabbè adesso siamo in un orario come si dice fascia protetta possiamo anche dire che la brama sessuale ma non è un caso per la verità Schopenhauer ha scritto una parte del suo libro che è proprio chiamato metafisica dell'amore sessuale ed è molto importante riassumendola in breve secondo secondo lui quello che importa alla natura e qua non possiamo non pensare a Leopardi è solo alla natura alla volontà di Schopenhauer è solo la specie quindi il mantenimento della specie alla volontà del singolo individuo non interessa niente per cui anche l'innamoramento questo mi dispiace per chi sta vivendo adesso questa meravigliosa illusione tra quelli che ci stanno scrivendo vedo vedo che ci sono anche dei miei studenti adolescenti quindi adesso saranno tutti tristi che l'innamoramento non è altro che un inganno della volontà fondamentalmente perché è la la volontà dell'individuo che vuole nascere che spinge due persone a desiderarsi reciprocamente perché fa così la volontà perché deve puntare sull'egoismo perché credendo il singolo di soddisfare i propri piaceri insomma anche sessuali affettivi eccetera quindi credendo di operare per il proprio bene in realtà opera per il bene della della specie molto molto freddo e secco trancho diciamo questo ragionamento di Schopenhauer che comunque riecheggia stavo dicendo Leopardi in particolare sulla famosa operetta morale del dialogo della natura dell'islandese ci sono molte affinità tra Leopardi e Schopenhauer in effetti Schopenhauer fu invitato a leggere le operette morali da uno dei suoi discepoli e ne lesse alcune lo iniziò a leggere diciamo Leopardi poi morì però disse adesso non vado a cercare la pagina per questioni di tempo però disse che questo Leopardi proprio aveva una visione lucida della vita come la sua insomma anche nell'operetta morale della natura dell'islandese sappiamo appunto che c'è questo islandese che incontra questa statua enorme la personificazione della natura che praticamente gli dice ma tu credi che a me interessi qualcosa di te niente lui raccontava tutte le periquessie che aveva dovuto passare insomma quindi la natura in Leopardi e la volontà in Schopenhauer sono totalmente disinteressate al singolo quello che importa è la specie comunque tornando alla consolazione per noi che abbiamo passato gli ante la vecchiaia la vecchiaia brutto dirlo così diciamo la maturità porta come diciamo sollievo intanto l'acquiettamento della volontà perché in qualche modo c'è tutta questa brama che ci spinge a desiderare in continuazione a volere a volere a volere si acquieta un pochino e fortunato a chi è rimasto l'amore per lo studio noi siamo fortunati per la musica e persino per il teatro quindi insomma l'amore per lo studio la musica e il teatro cercavo di collegarla con un'altra però vado avanti ancora un attimino ecco ecco sì qua infatti c'è una massima successiva che dice che è importante per l'uomo svolgere sempre un'attività dedicarsi a cioè l'uomo deve avere qualche cosa di ostacolo come da superare sempre la sua è una è una è l'uomo diciamo che possa definirsi tale che abbia la dignità di uomo deve sempre sforzarsi la lotta dell'eterno sforzo proprio e in particolare questo autore che mi piace citare che è stato cioè ha dedicato la sua vita totalmente a Schopenhauer è stato presidente della Schopenhauer Gesellschaft a Francoforte ed è stato talmente vicino in tutti i sensi no non fisico naturalmente a Schopenhauer che addirittura l'hanno sepolto vicino a lui ha scritto questo libro un filosofo controcorrente anche un po' per sfatare un attimino quello che è considerato il pessimismo diciamo rinunciatario troppo rinunciatario di Schopenhauer l'accuso un po' che gli ha fatto Nietzsche se vogliamo nichilismo attivo nichilismo passivo cioè sì è vero che nell'etica di Schopenhauer il top si raggiunge con quando la voluntas la volontà riesce a rovesciarsi in no luntas quando si arriva a non volere più però questo non vuol dire che gli appassionati insomma gli estimatori diciamo di Schopenhauer fossero delle persone così diciamo fiacche di animo debole tutt'altro sono insomma degli spiriti molto molto attivi che non tra i primi oppure le persone insomma tra i primi sappiamo che c'era Wagner Thomas Mann Horkheimer mi vengono in mente un po' così Kafka insomma comunque persone che si sono date un obiettivo nella vita quindi sforzarsi e lottare contro ostacoli è un bisogno più essenziale della natura umana perché noi abbiamo bisogno proprio di riuscire a qualcosa di to succeed proprio di di avere successo nelle cose che che facciamo e quindi scorro ancora velocemente ecco un'altra cosa che dobbiamo considerare sono le trasformazioni che il tempo produce in noi stessi spesso a volte non consideriamo che il tempo passa e magari quello che desideravamo anni fa ecco adesso una volta raggiuntolo magari non ci appaga più una delle follie più grandi e più frequenti è fare per la vita progetti di ampio respiro dice perché questo fatto presuppone innanzitutto una vita umana intera e compiuta cosa che pochissimi raggiungono e poi la maggior parte dei progetti come tutte le cose umane sono esposti a fallimenti e impedimenti ma c'è soprattutto da ricordare che anche noi cambiamo a volte questo non non ce ne siamo cioè non solo cambiano le condizioni intorno a noi ma cambiamo cambiamo anche noi cose che ci hanno entusiasmato fino a pochi anni fa magari o per non dire pochi mesi fa dopo poco quasi a volte inspiegabilmente non ci attraggono più situazioni che avevamo desiderato finalmente le riusciamo a ottenere ma non ci danno più quella soddisfazione che speravamo quindi o a volte le cose giungono troppo tardi per l'uomo oppure l'uomo che giunge troppo tardi rispetto alle cose e tutto è sempre per questa illusione in virtù della quale la vita vista all'inizio quindi da giovani sembra senza fine mentre guardandola da un'età insomma più avanzata sembra troppo breve però questa cosa questa illusione al suo lato positivo che senza di essa difficilmente si realizzerebbe mai qualcosa di importante chi è stato riccamente dotato dalla natura non ha bisogno di tante cose dall'esterno è fortunato se appunto salute e ozio ozio naturalmente inteso in senso positivo l'ossium diciamo latino per poter godere della sua ricchezza interna qui ovviamente schopenhauer ricorda pensava a se stesso che ha avuto comunque la fortuna diciamo di non dover assolutamente lavorare per mantenersi in quanto ha potuto sfruttare l'eredità lasciata dal padre per quanto poi fosse successo con l'episodio di bancarotta che si sia ridotta ma comunque insomma parte qualche anno decisamente sfortunato di insegnamento all'università ha praticamente vissuto di rendita come si dice però la cultura di cose interiori o di cose esteriori si cioè lui si si ma infatti lui non distingue di cose interiori beh anche interiori ah beh sì certo no beh ma sicuramente 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 quindi solo nell'interno torniamo solo nella propria coscienza esclusivamente nel proprio io risiede il nostro benessere e il nostro malessere ancora su questo insiste molto ancora e siamo ormai arrivati alle ultime massime richiama ancora aristotele può essere curioso perché in realtà una delle frasi di schopenhauer più famose è che lui a un certo punto disse che credo che la mia filosofia non sarebbe mai nata se io non avessi conosciuto l'eupanishad Platone e Kant lo chiama il divino Platone proprio eppure in queste massime Platone non compare ma come ho detto forse all'inizio Platone riguarda più la sua concessione metafisica di essere stato il primo di aver diviso un mondo sensibile percepibile con i sensi e quindi corruttibile e il mondo sovrasensibile come sappiamo tutti dall'allegoria della caverna ecco in questo senso l'ha chiamato divino Platone mentre per le cose più pratiche si rivolge più piacevolmente ad Aristotele e ancora questa la dobbiamo dire che per Aristotele la vita filosofica è la più felice anche questo chiudiamo direi quasi di chiudere con questa perché ci sta ci sta cioè sempre dall'etica nicomachea la vita la perfetta felicità è l'attività contemplativa per Aristotele sappiamo che esistono le virtù etiche e dianoetiche ma la la felicità è l'attività conforme a virtù quella la virtù più alta dianoetica è la sapienza e la sapienza che ci permette appunto di conoscere i principi primi delle cose quindi la filosofia si ammette che la filosofia ha da e ha in sé piaceri meravigliosi quindi il sapiente la felicità del sapiente dedico al debito alla contemplazione disinteressata della verità è un'esperienza autosufficiente e totalizzante e qui almeno noi ci crediamo molto noi dell'istituto ci crediamo molto noi insomma siamo siamo felici così continuando a studiare peraltro e a fare ricerca perché appunto non si finisce mai anzi un arricchimento continuo e quindi direi che come massime ci siamo ci siamo insomma le abbiamo più o meno dette tutte non seguendo non seguendo ah no io vedo vedo dei saluti dei miei studenti che ringrazio di aver avuto la pazienza di ascoltarmi il primo giorno di vacanza avrete un più avrete un più si non vedo non vedo le domande beh te ne faccio ne io beh ti dacci un tu giudissimo di cosa chiaramente la prezia però non so l'hai praticata di essere felici o no funziona o no eh ma sì cioè chiaramente non è stato solo però diciamo che per me Schopenhauer è stato un incontro veramente felice è il caso di dirlo è casuale perché ormai Claudio quasi potremmo scoprirci quando ci siamo conosciuti io e te possiamo dire circa una trentina diciamo così di anni fa un'amica che per anche doveva venire stasera mi regalò proprio questo libro proprio questo libro che come vedete è piuttosto consumato l'ho letto 3 o 4 volte per esigenti diverse e anche solo per puro piacere è una lettura che io consiglio perché io l'ho letto che ero non dico totalmente a digiuno di filosofia ma quasi provenendo da dal liceo scientifico dove insomma filosofia era stata fatta però come si dice all'acqua di rose e mi regalarono questo libro che io ho lessi e sono credo 1500 pagine le lessi in meno di un mese cioè proprio molto molto cioè lo beffi come si dice e mi iscrissi immediatamente filosofia quindi è stato mi viene sempre sì sì mi viene sempre in mente la frase che disse Nietzsche quando lesse comunque anche lui Schopenhauer che cui dedicò un libro Schopenhauer come educatore poi ebbero qualche divergenza dopo però fu come entrare in una stanza illuminata cioè per me è stato bellissimo un arricchimento grande e poi insomma delle volte penso che avrei potuto leggerlo prima ancora però sono sono molto molto contenta cioè io e invece non avete dato di essere felici io ti voglio dire se mi è praticato non ha il dato di essere felici praticato no io mi ritrovo in alcune massime mi ritrovo come ho detto anche scorrendole velocemente sicuramente che è più importante cioè l'arricchimento interiore diciamo cercare di sentirsi bene con se stessi però anche qui c'entra molto le fasi della vita poi perché onestamente anche io a chi mi conosce insomma ho passato diversi anni che ero più dalla parte che potrei definire del divertismo cioè trascinata un po' nell'età giovanile dalle compagnie dalla voglia di vivere perché ci sono anche questioni proprio connesse all'età però diciamo che è già da una quindicina d'anni almeno che trovo la mia felicità piena in me stessa nel senso che mi accorgo veramente che quello che dice sia Aristotele che Schopenhauer cioè che quando uno coltiva la propria formazione ricerca amici non disdegno tutt'altro però appunto pochi ma buoni insomma cercare di dare un senso insomma alla propria vita io sono ho trovato diciamo quello che credo che sia il mio equilibrio poi non si può mai dire perché finché sono viva ho ancora una volontà pulsante ma non credo che mi spinga più a cose così scoperte desideri diversi insomma avete altro da chiedere diciamo qua è stato un bel esercizio è stato dopo tanto tempo per me è stato veramente un avvocato d'aria che bello sono io che ringrazio a voi sono io che ringrazio a voi poi vi dirò che cioè per me in effetti Claudio lo può dire è davvero la prima volta l'altra volta l'ho fatto a distanza con Enrico però almeno ce lo divideravamo no? e c'è questa volta c'è ero veramente accettato ma praticamente questa volontà che c'è in Schopenhauer è quasi un orizzonte no? ti trascendi singoli e passo per me a tutti per me è quello stradale trascendentale che c'è quindi non ha niente diciamo di personale no no anzi la volontà è libera ed è fuori dal principio di individuazione cioè è fuori da spazio tempo causalità è proprio al di là del tempo eterna indistruttibile c'è anche qualche mistero eh dietro a questo aspetto nel senso che lui dice la volontà deve trasrovesciarsi in Noluntas ma qualcuno anzi uno dei suoi discepoli proprio gli disse per esempio ma come fa perché ok dice è un atto intellettuale ma un momento dell'intelletto in cui l'intelletto si libera dalla schiavitù della volontà e in qualche modo la costringe ad autosopprimersi però cioè sembra un po' quasi un arrampicarsi sugli specchi no? eh allora ho ho trovato curioso questa questo questo colloquio proprio di uno dei suoi discepoli che si chiama e lui richiamava discepoli e poi aveva anche gli evangelisti che erano proprio più vicini questo Julius Fraunisched che gli diceva ma ma l'intelletto quando nell'uomo giunge all'apice della conoscenza nel santo penetra l'essenza della vita ma come come fa il serbo cioè l'intelletto gli chiesi proprio a lui Schopenhauer ecco una cosa che vorrei è parlare con Schopenhauer e tutti quelli che si innamorano di un pensatore come fa l'intelletto a elevarsi a tal punto sulla sua padrona e creatrice da annullarla addirittura e lui dà questa spiegazione e dice un viandante va per un sentiero con una lanterna in mano improvvisamente si accorge di essere su un precipizio e torna indietro ecco il viandante è la volontà di vivere e la lanterna l'intelletto cioè alla luce di questa cioè della lanterna che è l'intelletto la volontà vede che si trova su una via sbagliata su un precipizio e si volta e torna indietro la spiega è bello anche a me è piaciuto molto poi aspetta gli mette infatti questo qua gli metteva proprio il dito la pulce insomma gli dice ma un'altra cosa se tu di lei dice la volontà è una unica indivisa è la stessa volontà per dire che muove una pietra che fa sì che il cristallo abbia quella forma che muove gli elettrodi che spinge l'ago calamitato verso il nord perché si trova anche nelle forze meccaniche magnetiche nella forza di gravità cioè secondo lui una volontà che naturalmente tutti gli stadi agisce senza conoscenza anche nella pianta quello che fa sorgere uno stelo per esempio è la volontà cita un articolo del Times che diceva che avevano visto il seicciato squarciarsi perché un fungo enorme voleva voleva volontà uscire no? il rampicante che si attorciglia intorno a un palo diciamo è la volontà anche quella fino agli animali fino all'uomo è l'unico essere in cui agisce con conoscenza allora dice se però è una unica e un individuo un singolo individuo un santo perché bisogna pensare ai santi agli ascetti riesce ad annullarla se si annulla in uno non dovrebbe avere conseguenza gli chiesi l'annullamento della volontà nell'intero mondo cioè ci sta tu che sei un logico Claudio no? la cancello in uno è indivisa dappertutto la cancello sparisce quindi un santo non dovrebbe essere in grado di redimere l'intero mondo Schopenhauer qua dice lei non è il primo a farmi questa obiezione no? mi fu già fatta nel 1819 ma a ciò io posso solo rispondere mi stavo un po' nervosendo secondo me no? in un fenomeno per fenomeno chiaramente lo dico perché è stanco adesso si intende l'individuo calato nelle coordinate spazio-temporali fondamentalmente in un fenomeno la volontà riesce a rinnegare se stessa e in un'altra no come ciò accada non lo so poiché non mi sono assunto poi di sciogliere tutti gli enigmi del mondo cioè per me qua è fantastico perché ha un'onestà intellettuale questo uomo che è straordinario è per questo poiché criticava tanto Hegel Fichte Schelling eccetera che richiamava insomma con tutti gli epitetti possibili soprattutto Hegel no? in brattacarte eccetera perché venduti al potere perché naturalmente la Germania di allora aveva più piacere nel momento insomma dell'esaltazione del progresso gli sviluppi della tecnica della meccanica no? andava più volentieri a sentire Hegel che parlava di progresso di ottimismo e di Aufhebung no? la sintesi l'unione di di tesi antitesi in una sintesi superiore eccetera eccetera che non uno che dicesse che la vita prenderlo che uscilla dolore e la noia però lui ha avuto successo diciamo più tardi come spesso accade nel 1851 quando furono pubblicati i parerre e i parerle coneni che contiene anche gli aforismi per una vita saggia che da qualche parte ce l'ho nella borsa l'altro libro suo ecco ebbe un successo strepitoso perché sì fortunatamente sì nel 1851 quindi ebbe la fortuna negli ultimi 8-9 anni della sua vita di poter avere anche gloria e onore meritati direi infatti al suo funerale ci fu tantissima gente sì sì è così insomma beh infatti 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 secondo me sì è come si vede esatto esatto si vede che tutti grandi magari hanno voglia ogni tanto di divertirsi un po' pensato di scrivere qualche cosa di più che la in effetti è quello poi che ha avuto successo cioè evidentemente scrivere una metafisica così pesante per un vasto pubblico non c'era il pubblico giusto però quando parli di vita felice e di aforismi per una vita saggia che fanno parte appunto perché anche i parerbi e i parerbi sono due bei volumoni e lì ci sono delle cose molto più leggibili da un pubblico più vasto per cui ha avuto davvero un grande successo poi da lì molti hanno poi letto l'opera fondamentale quella che lui chiama l'opera fondamentale e insomma ha avuto la sua fortuna anche lui bene bene io vi ringrazio l'arte di aver sempre ragione c'è anche l'arte di insultare perché questo è stato molto interessante perché poi parliamo di questo che è ovviamente si 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 no ma lui era uno che non si era fatto mancare niente come si dice era stato anche innamorato profondamente insomma venezia ha avuto insomma delle avventure interessanti insomma Teresa Fuga si chiamava un'altra nobil donna veneziana dove sembrava anche che dovesse approdare un matrimonio e poi invece invece no pare che lei gli avesse rivelato che era malata però insomma qui si entra così nella dell'anedotica va bene io direi che possiamo chiudere adesso le 11 guardarò se c'era qualche domanda ma non ne vedo Enrico dice interessantissimo facciamo un bel applauso allora noi vi ringraziamo e mi fai venire qua va bene comunque e vediamo appuntamento al 27 al 27 aprile per il ring filosofico e ne approfittiamo per augurarvi a tutti quanti buona Pasqua e grazie per essere stati presenti fino alla fine complimenti ancora Silvia grazie davvero grazie a tutti grazie a tutti